La squadra della mia città, dove sono nato, sia calcisticamente che anche come allenatore, però sicuramente non sarò emozionato per questo, nel senso che non ci deve essere spazio ai sentimenti perché bisogna riuscire a trasferire il massimo dell'energia, il massimo della voglia a questi ragazzi. Noi abbiamo veramente bisogno di punti, quindi andiamo a giocare contro la squadra più forte del campionato e quindi non c'è bisogno di caricarla più di tanto per la partita. Infine, tu mi chiedo scusa, se aspettava questo pari, io sono un giornalista di pari, se aspettava questo pari qui